lanciami si vai adama vai 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 mamma mia guarda come era queste praterie mamma mia mamma mia era un capo clan capo clan cotone adesso lo chiamo mamma mia capo clan cotone eccolo qui è bello con la don testa di è tutti i pezzi di cotone in testa pensa quello che c'è in testa è l'ultimo risotto è un risotto e lorenzo apparse al mente ragione ma a me ricorda anche l'ultimo pezzo di terra che lui non ha raccolto di cotone così per ricordo sarebbe voluto mettere in testa perché si ricordava dove deriva un ricordo dell'infanzia quando era più giovane quando stava al suo paese e l'audio di l'audio di lì tanto calcolato di questo ma ancora esistono adoro voglio farmi un trasparello ma perché te li mangi no mi segna sbagliato quanto vorrei in cadena un negro a un palo per vedere se pierzole diventa bianco sì a e che cazzo niente il papu come se è ancora armato ma guarda a corta 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 dici osmetto tu padre con una bala taglia di punta niente non lo so caso rassunto di bella frate ciao 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 devo andare al bagno 22 20 mette un piccolo chiudino sulla fronte della madonna quando succedono queste cose io voglio far male voi da fastidio se c'erano tutti quei giorni che sono sottaccavamo i giorni stanno sempre a scatare sul campo che cazzo se scatarono quello scatarono quello dopo c'è casca sopra sposa su quell'altro non sta per terra poi il pallone piena di sputi arriva nei mani del portiere che si asciuga la faccia rinvia sull'attaccante capi a te testa pieno la palla di sputi che arriva in faccia al giocatore con gli sputi e c'è sputa che è buoni ma se lo dice guarda e facciamo entra lisa nel party no simono non puoi dire queste cose perché perché può succedere non dobbiamo entrare il party perché c'è la play lisa no ecco mentre allora poi la mia casa tua e dovresti fare in modo che vada a casa di lorenzo possa entrare il party qualcosa entra sicuro sicuramente lei a casa è quello di come forza deve entrare a casa giusto il tabacco gang nel far west gigavalli cloc 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 ma che è una foca questo ma è porca la madonna madonna quanti ricordi ma che c'è un guadagno madonna ma ci sono i ziggari ah 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 t'hanno ho ucciso l'uomo ragno che c'è stata notte t'hanno cambiata l'immagine dei kin ma è rimasto negro però io l'ho chiesto bianco a parte la precampionato così vediamo lì un po' com'è l'oree no ti fa così l'oree lo vedi di far così di far così l'ho chiesto bianco no ma devo dire a male ma vaffanculo a quel porco de dio va ma però uno vedi però tu esageri sempre no è che se era solo bameyang quello diceva vabbè dai sono solo io che te posso da fastidio allora te faccio vince assegnato dopo la c'è roba mia che c'è roba mia vado sto conte del cazzo glione di merda abbiamo fregato screener e laudaro stacchi pezzi e muo io ho dato socrates oh ah io che no ho dato socrates e che no che sono due ecchi da merda e fra due anni moreno stunk stunk amo il prossimo regore lo diri tu eh ma c'è Cristo ma tanto manco io so come si diranno a sto punto sbagliato per sbagliato te vi meriti la gioia e il giubilo ma adesso mi ha rotto tre quarti te minchia te e tu madre argerina beh mo che c'è mo che ho detto è algerino che c'entra la madre eh perché l'ha messa al mondo quella scrofa algerina uuu oddio ho detto algerina è algerino che devo fa non è una questione di razzismo no sono a merda mo perché sono a merda mo mo perché offende minoranze ma non è giusto da parte tua questo mannaggia e Cristo e io pure sto offendo la minoranza mo se si chiamano minoranze giustamente perché non prendo in giro le maggioranze mo cosa mi hai chiesto non te dico perché non la gente non prende in giro le maggioranze che ti dico sporco eterosessuale no sporco bianco dovrebbero iniziare a farlo ma bravo ma bravo è vero dico sporco dinci dico ecco che dico io io c'ho paura che mi scappa ma in caso ti chiedo perdono perché dici ma dici no perché 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 la domenica mi lasci sempre per andare a vedere la partita di pallone tanto la ration ancora non è iniziata bro ma che era quel remix allora innanzitutto mia madre non lo dici pensa la tua di madre hai capito mia madre non ti permettere mai più di nominare mia madre così in vano mangia mangia di tu eh mangia cresci no perché l'ho mai cambiato giocatore così non piove più oh oh eh ma quanti sono questi in difesa oh no guardate se sentiamo eh mi rischi di far figuracce ah adesso io voglio sguarra tutto a sto coglione capito? potremmo pareggia qua i punti sono importanti i rival se no come porti i soldi al c... non li porti soldi al c... per cui tu eh ah ahah 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 tutta sta gente da dove è spiegata perché c'è ho capito stai se lo prezio non credo niente ma niente non ti non ti non ti ho solo non ti ho un attimo che ti credi sono giovine ma non così tanto sono giovane ma non così tanto quant'anni ha un porco 6 c'è minorenne ma tu c'hai vent'anni c'è se in pedofilo è consenziente dove stanno l'hai plagiata quello voleva dire antonio l'hai plagiata no antono tu volevi dire plagiata secondo me tu mi stai plagiando per dire plagiata mica solo quello so serpenti con le ali so serpenti con le ali vogliano dire tutto anche in che senso scusa piccioni di solito che non so quanto vabbè che si viva pure la madonna ma non è sì sì ho il cd con l'81 di fisico ma ha detto la madonna che sarta due per no che fa e poi pop e corne la fregna uh brutta questa mamma mia hai capito no? si che si mette la pannocchian fregna e poi è scoppietta fuori no basta vai vabbè a questo punto finisci da dai no questa giustamente più di quello che devi di al massimo ci può mettere no vabbè che schifo dai dito dai ci permette erburo sopra corpiscio ecco vai si va e poi e poi so finire poi ti metto in un pacchetto e ti fa mangiare e ti fa pure pagare quella puttana del merda capisci? ha capito sta zoccola destro incredibile no oia mi fa male la mascella oia 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 sarebbe loro uno più falice della vita mia più falice niente il fatto che devo andare a pisciare gli toglie le vocali se la trattiene mentre la merda sulle consonanti infatti i miei sono piani ma quando finisce sto a partire dal bagno fino al fuoriclasse devi tenere finivo no 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 si si sennò perdi se pisci eeeh fa niente fa niente oia 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 rispetto a chiunque c'evo prima chi è entrato nel party ma il ragazzo è l'altra volta e ragazze ciao come va e non va no Lorenzo però ti ha detto lui come va è vero non stai bene e va a rigiocare fratellino 1v1 si sente poco se ne sta andando perchè lo cacci via dalla stanza ogni volta vuole giocare con noi non ho nemmeno detto come si chiama è vero basta dopo aver visto questa cosa martial davanti alla porta tira palo chi è il più veloce ad arrivare sul rimpallo chi vuole rispondere chi vuole rispondere alzate la mano sii ma che è oh come ha tirato scusa si è girato ma ha fatto la veronica ha fatto il 360 e ha preso il culo e ha fatto non c'è problemi se hai fatto che finiscono 11 a 4 cazzo che prego vai e quitta porco dio vai facciate merda rotto un culo magari te svegli freddo congelato surgelato mezzi fiori porco dio non mi senti stato si 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 è seduto porco dio io mi sto per spaccare il joystick in testa perché ti fa così tanto male io l'ho detto anche ieri ad antonio perché mi deve passare la voglia di giocare a questo gioco di merda proprio rischio di diventare cerebroleso porco dio piuttosto che ritorna qua madonna giocare è una scelta non è un obbligo ma infatti è una scelta è una scelta io non voglio più avere la libertà di scegliere di giocare a questo gioco voglio che le altre persone ragionino per me perché io sono un vegetale no mamma mia io non ce la faccio più ah io mi dissocio completamente da questa frase se io voglio che mia madre riva e mi dica e mi dica tesoro vuoi giocare a me e io attendi questo mamma mia riyad un gol completamente senza senso mo dovrai far melina capisci perché sto 3 a 1